il punto che andremo a lavorare è questo questa è la rappresentazione grafica del di una delle tante varianti del punto x quello che andremo a fare noi è il punto x lavorato con la maglia alta doppia e nella parte sovrastante separato da una catenella in un altro tutorial che già trovate sul canale quello della gray pearl vi ho spiegato la lavorazione di un punto simile in tondo senza la maglia iniziale che mandava a creare nella lavorazione in tondo una antiestetica riga in quel progetto l'ho eliminata e sono partita lavorando il giro direttamente con il punto x mi lascerò poi nella info box al limite il link al tutorial il punto si lavora su un multiplo di tre potete crearvi una base di punti alti punti bassi mezzi punti oppure lavorare direttamente sulle catenelle il procedimento è lo stesso io ho già avviato la mia base di 21 punti alti partiamo con il giro che va a spiegare il punto infatti è un unico giro di lavorazione il primo punto lo sostituiamo con quattro catenelle una due tre e quattro se andate a lavorare sulla base di catenelle dopo il multiplo di tre aggiungete quattro catenelle opzionali che saranno il primo punto alto doppio e l'uncinetto lo andate a puntare nella quinta catenella a partire dall'uncinetto carico due volte il filo entro alla base delle quattro catenelle che sostituiscono il primo punto alto doppio estraggo e chiudo due carico di nuovo salto un punto vado in quello successivo estraggo chiudo due chiudo due chiudo due e chiudo due una catenella di separazione carico il filo e adesso andiamo qui vedete sull'incrocio che abbiamo creato con la chiusura di tutti i punti precedenti facendo attenzione a prendere e questa asolina e quella successiva del punto dietro estraiamo carichiamo e chiudiamo due alla volta le asole che abbiamo sull'uncinetto ecco qui questo è come si presenta il punto che abbiamo lavorato faccio rivedere di nuovo carico due volte il filo vado nel punto immediatamente successivo a quello in cui abbiamo lavorato il punto precedente estraggo e chiudo due carico salto un punto vado in quello successivo estraggo adesso carico e due alla volta chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto e abbiamo lavorato la prima parte del punto do la mia catenella di separazione per lo spazio superiore carico il punto entro vedete in questa asolina ben visibile che è la prima dell'incrocio vado anche in quella che c'è dietro estraggo e chiudo le asoline due alla volta di nuovo carico due volte il filo entro nel punto di base quello subito dopo al punto che abbiamo chiuso adesso estraggo chiudo uno carico salto un punto vado in questo successivo estraggo carico e chiudo due alla volta tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto un punto catenella carichiamo il filo andiamo nell'incrocio prendendo le due asoline estraggo e chiudiamo due alla volta e continuiamo in questo modo per tutto il nostro giro di lavorazione termineremo il giro così come lo abbiamo iniziato andando a lavorare un punto alto doppio questa volta sulla terza delle tre catenelle iniziali mi raccomando se voi create una base di punti al punto x ricordatevi sempre di lavorare nel punto finale della riga io continuo e via al limite vi faccio vedere l'esecuzione sono al termine della riga vi faccio vedere la lavorazione dell'ultimo punto vedete che abbiamo giusto i tre punti sui quali lavorare carico due volte il filo entro nel punto di base estraggo carico chiudo due carico il filo salto il punto vado sulla terza delle delle tre catenelle iniziali estraggo carico e chiudo tutti i gettati che ho sull'uncinetto catenella carico vado nell'incrocio entro nelle due asoline estraggo chiudo il punto carico due volte il filo adesso rientro sulla terza delle tre catenelle iniziali e vado a lavorare il punto alto doppio di chiusura diciamo che ci vuole un poco più di attenzione per la lavorazione della riga iniziale le righe successive sono tutte ripetitive mi faccio vedere l'inizio e poi faccio qualche giro per farvi vedere come andare a recuperare i punti nel caso aveste creato un bordo iniziale questa maglia finale e iniziale che abbiamo lavorato per la lavorazione in riga ci può servire come bordo nel caso in cui dobbiamo andare a cucire dei pannelli io ne ho fatta una giusto per farvi vedere la lavorazione voi potete creare anche un bordino di due o tre punti e all'inizio e alla fine se vi è più comodo poi per la cucitura del vostro progetto giriamo il lavoro 4 catenelle iniziali per primo punto alto doppio carico due volte il filo vado sul punto x direttamente quindi estraggo e chiudo 1 carico di nuovo il filo vado nel punto di chiusura della x estraggo chiudo 1 chiudo 1 chiudo 1 e chiudo 1 catenella carico il filo vado sull'incrocio e chiudo il mio punto x carico due volte il filo vado nel primo punto della x sottostante chiudo 2 carico di nuovo vado nel secondo punto della x sottostante chiudo 2 chiudo 2 chiudo 2 e chiudo 2 catenella carico il filo vado sull'incrocio e chiudo il punto x vedete che la lavorazione della seconda riga e di tutte le seguenti è molto più semplice perché noi non facciamo che altro che entrare nel primo e nel secondo punto della x sottostante abbiamo già lo spazio del punto che dobbiamo lasciare quindi non avremo difficoltà nell'esecuzione non avremo difficoltà non avremo difficoltà ho lavorato qualche altro giro vi faccio vedere adesso come ricreare il bordino iniziale portiamo il lavoro e andiamo a lavorare 3 catenelle per il primo punto carichiamo il filo andiamo sul primo punto della x e lavoriamo un punto alto un punto alto nello spazio 1 sul punto di chiusura della x 1 sul punto di avvertura della x seguente 1 nello spazio 1 sul punto di chiusura della x e continuiamo in questo modo per tutto il giro lavorando punto su punto spazi compresi fisseremo poi il filo e la nostra lavorazione sarà terminata spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video ricordatevi sempre di consultare le info nel box sotto ai video dove troverete informazioni utili per le vostre lavorazioni se avete dubbi domande o richieste fatelo con un commento sotto ai video ciao 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 ciao